Il premio Grottamarese dell'anno è il primo atto di una lunga annata per l'Associazione Lido degli Aranci. L'inverno grottamarese sarà scaldato dal Teatro Amatoriale di Commedie Nostre, otto atti di simpatia dal 23 gennaio al 19 marzo. Luogo del primo spettacolo sarà il Teatro delle Energie, mentre gli altri sette si svolgeranno nella rinnovata Sala Cursal. Ad aprire le danze sarà il 23 la compagnia è fuori di testo di San Benedetto con Cenerentola, seguiti il 30 con Che Stemmi, Che Sci Benedette dell'allegro palcoscenico di Tortoreto Lido, il 13 febbraio con Nonno Checco della compagnia Omondero di Montelparo, il 20 con Non tutti i ladri vengono per nuocere della zigagna di Acquaviva Picena, il 27 con Varve e Capigli e Chi ci pensa i figli della compagnia Lucaroni di Mogliano, il 5 marzo con Puve Rom dell'Associazione La Porta Girevole di Alba Adriatica, il 12 con Questa casa è un canicomio dei nosocomici di San Benedetto e il 19 con il Gran Galà finale presentato da Giuseppe Cameli e Manuela Cermignani e la presenza del grande comico fermano Pier Massimo Macchini. Il Gran Galà decreterà anche la consegna del terzo premio Grotta Mare Mask, una sfida tra le sette compagnie partecipanti, vinta lo scorso anno dalla compagnia Lucaroni di Mogliano, la quale dovrà difendere il titolo. Appuntamento dal 23 gennaio al 19 marzo con 8 sabati all'insegna della comicità e del dialetto del Marcuzzo.